Buona giornata da Eleonore. Questo video è un video breve che porterà un messaggio degli angeli a tutti voi che magari vi state facendo delle domande, avete un pensiero, qualcosa a cui pensate sempre. E quindi a questo pensiero daremo una risposta secca, una risposta che viene dagli angeli. Quindi sarà l'estrazione di una singola carta perché non è un consulto approfondito. Vediamo cosa hanno in riservo per voi. Scegliete mentalmente un numero da 1 a 3 e per ognuno faremo la lettura. Dunque se avete scelto inizio a disporre le carte. Queste sono carte che hanno una lettura solo da un lato. Allora se avete scelto iniziamo con la lettura perché ha scelto la numero 1. La risposta sarà che questo periodo passerà e avrai nuove opportunità sia di lavoro che sentimentali. Quindi se avete un periodo un po' difficile sia nel campo di lavoro che sentimentale avrete nuove possibilità di sviluppo. Quindi non preoccupatevi e vedremo l'evolvere della situazione. Per chi ha scelto la 2 dovete avere pazienza. Quello a cui state pensando necessita tempo. Quindi non aspettatevi di avere una risoluzione immediata. Ci vorrà tempo. Però verrete premiati. E l'abbondanza arriverà da voi. Sia che sia a livello sentimentale che di lavoro. E quindi anche forse denaro. Per chi ha scelto la numero 3 devi seguire i tuoi sogni. Devi essere meno legato alla razionalità per raggiungere l'obiettivo che ti sei posto. E quindi cercare di essere più libero. Abbi più fede in te stesso. Ecco. Bene. Questo era un breve consulto con messaggi appunto dagli angeli. vi aspetto per i prossimi video. Buona giornata da Eleonore.